Sofia de Ruma è diventata la prima alternativa alla favorita Strolaga Jet, ma va in partenza la settima corsa di Palermo. Settima corsa di Palermo, indigene di tre anni a reclamare per 10.000 euro in 12 al via, favorita al gioco proprio il numero 12, Strolaga Jet, che ha chiuso leggermente sotto pari, è il momento della partenza, l'allineamento è tutto sommato accettabile, è il momento dello stacco, stacco che avviene in questo istante e che vede l'ottima partenza di Spigabon che prova a scavalcare Saks del Ronco, numero 3. Non è partita bene invece, signor Itast, per linee esterne sbaglia, adesso dovrebbe trattarsi probabilmente di Silva Disgray o probabilmente, comunque al comando c'è sicuramente Spigabon nei confronti di Saks del Ronco, uno degli utsider della corsa, poi i cavalli tutti abbastanza allineati con un cavallo che prova a venire per linee esterne, vedremo adesso al passaggio dei 600 metri cosa dirà il cronometro. I primi 600 metri piuttosto svelti in 45, mentre c'è l'errore di Saks del Ronco, mentre Spigabon continua a tirare nei confronti di Sinfonia Rivarco, poi signor Itast in terza posizione, mentre il capofila continua a tirar via, si tratta di Spigabon e lo fa con grande determinazione. Ci avviciniamo al raggiungimento del primo chilometro con posizioni praticamente invariate, andiamo adesso ad apprezzare la misura del primo chilometro di Spigabon, piuttosto veloce per la categoria, attorno all'1.17 e viene avanti sul numero 1 Sinfonia Rivarco, il numero 12 di Strolagaggette, la favorita della corsa, che in poche battute va a liquidare la capofila Spigabon e prende chiaro vantaggio nei confronti degli avversari, fra i quali è Sonny Rollins con Biagelo Verde a farsi luce per linee esterne, il momento più critico questo per Sonny Rollins, che in questo punto del percorso ha spesso avuto qualche problema, ma nel frattempo Strolagaggette ha preso un vantaggio che sembra difficilmente colmabile, però è molto stanca e c'è una progressione di Sofia del Rum molto incisiva, ma il palo è troppo vicino e così non ci sono problemi per Strolagaggette che vince su Sofia del Rum e su Sonny Rollins. Dunque doppia giornata per Natale Cintura che vissa con Strolagaggette, favorita a quota di 1.97 la vittoria della gara precedente con Surya Griff, i colori sono quelli del signor Antonino Quartararo, il training è quello di Natale Cintura, al secondo posto la controfavorita Sofia del Rum, terzo un finalmente concreto Sonny Rollins, in numeri, ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso per la settimana di Palermo, 12-9-8. Grazie.